allora eccomi di nuovo qui con il buon alexios versione digitale l'altro non c'è quindi ci facciamo abbassare lui quindi dicevo dobbiamo continuare l'esplorazione io mi farei tutta piano piano questa parte qui di questo ponte di roccato e via allora mentre scendevo qua avevo visto lì la gente si è buttata sotto presumo avevo visto c'era un passaggio per salire qua sopra mi pare ma non so proprio sicurissimo mi pare proprio che no invece che ho visto così qua qua quasi eccolo ok esatto quindi questa parte qui è questa parte qui perfetto niente ce la ce l'abbiamo a esplorare tutta quanta ogni tanto non dico è ma ogni tanto così da sciabolatina sciabolatina perfetto a questi ma tanto per così per rompere le palle capito basta accogliamo no lì c'è gente scendiamo al cavallo perché noi dal cavallo siamo no vabbè quello lo prendo dopo vediamo se e qui posso più a nessuno da dietro no no eh cazzata 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 è andato ecco questi sono abbassato questi mi stanno veramente tutte le palle perché sono veloci quando gli parte la combo dunmare guниo sul paio è nato santa cazzata 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 e quindi ma è lui? non so se è lui tipo se qua scendo non posso risalire se poi fa sempre il giro insomma e da lì poi posso risaltare lo provo? andiamo col cavallo non si sa mai non c'è niente cazzo ho avuto da fa cazzo ho avuto da fa adesso non mi tocca rifare tutto a giro non mi pare che ce sia niente va bene era da fa era da fa ah quella era l'arpiccione che me la cascavo di sotto va bene ma qui c'è un altro dischetto eh ste rune auree sono sempre buone le devo sfruttare pure per per insomma prendere qualche runetta in più fare qualche livello allora facciamoci tutto il bordo non mi pare che ci sia niente di interessante qua che c'è eh quello? no perchè l'ultima volta quando lo so passato si è alzato eh quindi non era qui è fatti è fatti ho già sta metà vita questo io da solo allora via 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 alloooooo sto str obtutt PLC e no mi son castrato e ne eh sono ci va vabbè déjà è morto su a la una l'era morto ma dato niente voglia comunque tanto che così ce ne stanno altri però più aspetta qui c'è una cosa talismano lanciata giostra potenziali attacchi a cavallo questa è interessante pertanto questi cioè li proteggono dal fuoco e dal sacro e però sinceramente adesso non è che ho trovato poi tutti questi nemici che hanno queste queste caratteristiche nel loro attacco però questo mi potrebbe far comodo quindi a cavallo dovrei fa un po più male anche perché vado a compensare il fatto che uso l'arma una mano va bene e da testare i pinguini vabbè lascio stare dai peschetto vabbè non è che ci sia granché eh facciamoci quest'altra parte di qua oh questo va bello ah questi aspetta ce ne stanno sempre un po di più ne stanno quelli che è eh sì eccoli infatti c'è una cifra però mi pare che faccio più male eh no a cavallo non mi ricordo che questi già li ammazzavo con colpo solo a parte che ho anche aumentato l'arma eh quindi già li vedo l'ho presa e va bene quindi facciamoci sta parte qua molto buio eh poi torna in giro da notte già vedo un cazzo io ok ah c'è una caverna scusate andiamo vabbè dai a questo punto stavamo qua la famo la lasciamo la catacomba mortifera catacombe mi siedo perché tanto voglio dire vediamo se posso fare un livello no però a questo punto siccome sto a catacombe eh non è che qui si potrebbe pure lasciare la pelle facile c'ho quelle cose no abbiamo detto queste qua eh ce ne ho pure parecchie allora queste me ne davano 200 queste 400 e queste 800 quindi ce ne sono di vario tipo di vario eh vabbè mi pare che era 3100 per il livello no vabbè sto qua a macello che i tasti fermi intanto poi mi risiedo allora fermate 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 che c'è stacca per niente e usate così così mi dovrebbero mille rune 3.500 oppure troppe potrei pure fare il livello quindi nuovo livello a sto punto dai 16 le forze sono costretto così possiamo utilizzare questa una mano e possiamo mettere la torcia nell'altra se ci serve a qui c'è subito il portone che sicuramente sarà da apri infatti am fatti prova a scheletro ma c'era scritto vabbè l'ho sbentrato ah questi sono quelli che si rigenerano no prendilo 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 ottimo ottimo e poi non c'ho lo scudo adesso eh è un massimo infambata da buono mori 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 posso fare un altro eh comunque non fa male eh già aumentando poco poco lo sfatone non so se questi erano proprio pippe di loro che strazza qualcuno ah ah ahia ma è mo quello miseria c'è però Ok Ottimo Aspetta, allora qui che c'è? C'è un passaggio Poi c'è pure la parte di là da andare a vedere Eh, lo sapevo che t'alzavi, lo sapevo AIA Aspetta, andiamo a trovare questo Ok Oh mamma mia Facile, dritto per dritto, sa Qui c'è tutta una parte sotto Oh, questa è buona Ho preso tipo una katana Dopo la vedo Questo è cascato da sotto Ma io se mi tiro da sotto poi Aspetta Eh vabbè niente Non so se è andato da sotto o no Cioè forse si ricollega a quella parte Sì forse ho capito Cioè si ricollega a qua Eh, perché devo fare sta parte qua Sì ecco là Ah però c'è stanno altri Merda Merda Ho tornato troppo Troppo alla ribalta Fermate Ok Mi ce n'è un altro Ma sopra l'avevo fatto No c'è uno che mi spara da sopra Mi puoi mettere qua sotto Sopra che non mi piacche le frecce Ok Vieni, vieni qua, vieni Oh, ce n'è un altro No No Vattaci tu Questa è bella Oh ma Elevate dal cazzo Eh Non te lo ho detto Allora ci sta Quello là sopra che mi spara Le frecciate Ah no è sceso Poi un altro Eh no è sceso Sì comunque questa era la parte sopra dove ho preso la A proposito Questa era buona perché fa pure sanguinamento però mi serve 15 in destrezza E comunque forza e destrezza si le devo aumentare perché ti permettono di portare Armi migliori anche se ovviamente lo spadone è lo spadone 143 di danno contro 115 E' pure vero che questo l'ho pure aumentato a più uno Però questa è fa sanguinamento a una mano Perché è una katana quindi devo portare una mano Cioè nel senso anche a due mani però A una mano con uno scudo sarebbe molto utile Allora qui c'è la leva per aprire la porta Qui c'è qualcosa Sangui Sanguirosa Va bene Oh no vabbè Ma che cicciate così oh Ma che davvero Andate un po' a quel paese No Aspettate questo Guarda che moro male all'ultimo Finito le fiaschette comunque scherzando e ridendo Lo sta E taglie E taglie Ok quindi la porta Stava qua su Però ovviamente mi vado Ad assettare prima di tutto Alla La graziella qua Così recupero tutto quanto E poi vado spedito Verso la La porta dove Presumo ci sarà il boss Per boss Dai hobbit Stipia di scarsi Vado eh Vado diretto Così via Allora Dopo i chiotti Assassino Non i miei coltelli Attaccatelo prima voi Bravo 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 Biscio Ma questo è il supermanente Qua Oh vieni qua Devi venire qui Deve scappiarlo maio Guarda che l'hanno preso Vabbè lo sei del gatto E' finito Vabbè non è stato Tutto questo perché Eh Pugnale cremesi Dell'assassino Pugnale cremesi Dell'assassino Pugnale cremesi Dell'assassino Ripristina punti vita con i colpi critici E' questo E' questo 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 Potrebbe essere Molto interessante Cioè con i critici Tipo colpi da dietro Così che non te vedono Tiri da Di punti vita Proviamolo dai Se prova insomma Allora lì c'è uno scrigno Mazzate di solito Non c'è stanno Di scrigno La radice mortale C'era la chiave No Ingrediente Che cazzo era la radice mortale Eh mi devo imparare a vedere le icone Quando prendo le cose Che ti dice subito Qualche Ah eccola Quel di cui si nutre la belva ecclesiastica Nel santuario ferino del lontano oriente Ma io non l'ho incontrata Credo Vabbè Insomma Qui abbiamo finito Vabbè ce ne andiamo Vado via Eh no Non ce ne va Allora Intanto si è fatto giorno Credo Quindi questa parte qui L'abbiamo vista tutta Va bene Continuiamo ad esplorare Allora Qui dobbiamo per forza discendere Perché non c'è altra soluzione Allora qui il problema è che Mo mi ha rigenerato tutto Tutti quanti Io voglio andare tipo qua su Ma mi sa che Panda qua Devo passare da qua Quindi vado qui Perché qui non credo Che si possa risali Da questa parte qua Qui non c'era l'accampamento Ma qua sopra Visto che non ci potevo andare Quindi Oddio Sto qua Mi potrei fare pure sta parte Però no Dai Andiamo 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 per step Facciamoci tutta la parte Diciamo qua sopra Perché se no Dopo Mortacci Detusorella Detusorella Lo stai Vieni Vieni Dai Sì tua Fatto più a un corpo Allora vado qua Ok Quindi è dritto per dritto No? Sì Tutto qua E via Allora Scusate Un secondo Ok Allora Scusate Telefonata Qui Non Potevo Non Rispondere Semplice fatto Che era la mamma La mamma Sempre la mamma Quindi Ehm Do sto Qua Che è oh Mi sono arrivate delle rune E non so Cosa Sia Successo Vabbè Allora In questo bosco Non mi pare Che c'è Manco Manco faccio un tempo Guarda guarda che roba Manco faccio un tempo a dirlo Stavo a dirmi Mi pare che in questo bosco Non c'è niente Arriva un branco Levatevi Dai Su Non scherziamo Dai Davvero Davvero Andiamo a vedere Tutto Quella struttura Gigantesca All'anno Tanto Fatemi Fessi che so Vabbè So che so Però mi prendo Le farfalle Quelle ardente Aglio e olio E fanno ardente Ok Mi pare che ci sia Ma non voglio di guarda Allora Qua sotto Se scende Ah Lì c'è 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 uno scarabbeo Però attenzione Perché c'è pure Quello col cavallo E Allora Io mi farei Prima questo Cavaliere A cavallo Cavaliere a cavallo Insomma Me lo farei Anche se lo vedo Bello cazzuto Perché non è come Quegli altri Questo è uno Ovello cazzuto Infatti Già mi ha puntato Ah Ho levato pure Il migraggione Che mi faceva Far più danni a cavallo Con dei ricetti Però l'ho sfornato Vabbè Dai Non è che C'è Attenzione Ceneri di guerra Voto aureo E gran Scudo dorato Che peserà Una cifra Allora Inventare No Equipaggiamento Allora Tanto Questa Adesso Ha una mano Sul cavallo Faccio Gli stessi danni Che Ha due mani E il gran Scudo Ah Posso portare Pure lo scudo Questo qua Questo non lo posso portare Abilità parata Posso cominciare A portare Sto scudo Eh Non vediamo Non vediamo Però c'ha l'abilità parata Lo scudo Quindi so Che l'abilità Si fa Col tasto Però se la mano Sinistra C'è Dove metto lo scudo C'ha già un'abilità Mi fa l'abilità Dello scudo Non più quella Della Dell'arma a mano destra Quindi Da studiare Sto stavo Scalabello L'ho visto All'attenzione Che questo Mi scappa Non moro Qui Guarda No Ma sono rischiata Comunque La forgiatura Funeria Va bene E C'è niente Qua No Finito Qui posso scendere Dopo Ah Qui è dove No Non è che posso scendere Qui è dove stavo Stavo prima Questa parte Qui l'ho vista Devo vedere Questo pezzettino E tutta questa parte Qua dietro Andiamo un po' Sto pezzettino Se posso scendere Ma qual è Sto pezzettino Non è questo È qui Ecco Ma io poi qui Posso risalirsi E ovviamente Scendo in questi Portuggi E non c'è Mai niente Vabbè Sto registrare Oh 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 Ok niente Allora si va a vedere La parte qui dietro Dove sta Quelle 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 Grosse edificio Questa Buone 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 Questi giganti Si alzano Tutto insieme Qua Poi Questi Struggi Antena Volgo ah perché mi scegli il cavallo oh non mi dà più il cavallo invasione dissidente e che così ma che fuori ma dove l'ho andata ma al fuoco non mi fa incazzare vieni così senza mi fai scendere il cavallo questo l'ho fatto scendere invasione ma che è un altro giocatore un multiplayer aia aia e dai capialo però porca trota guarda te oh oh non so se è stata una cosa multiplayer non credo perché mi ha dato un talismano quindi non lo so se potenzio gli attacchi che riducono il vigore di chi blocca io c'avevo questo ma mi sa che questo vabbè non lo so vabbè qua che c'è usa il dito torto di duellante per lasciare un segno di evocazione rosso sempre roba multiplayer va bene scelta dentro l'arena di sepolcrite per ingaggiare in combattimento altri giovedori tocca l'effigie di marica in un'arena no ma questo è multiplayer sono l'arena multiplayer no vabbè tanto per il momento non l'arena di sepolcrite vabbè me la seguo non vabbè per il momento non mi interessa niente e continuiamo ad esplorare non c'è niente vabbè mi pare che qua ma che ci siano grandi grandi cose eh allora fatemi vendosso nà quindi si mi faccio sto pezzo ok allora lì c'è il castello tra la libia proprio il castello e qui tocca cominciare pure a pensare ad andare a riaffrontare quel boss madonna la roba che scende a mare qua non lo finisco sto gioco oh gigantello quante ho due ampolle vabbè vabbè dai non so lontanissimo dai grazia si può pure provo a farlo eh aspetta abbiamo che farlo vediamo un po' allora sopra ci devo andare lì che c'era la grazia quella dove c'era la ragazza questa era la strada dove ci stavano quei due e io muoto a farlo il gigante dai ma si ma che scefrega posso evocare i lupi? no perchè non c'ho mana poi non credo che mi faccia evocare da qua devo mettere l'altra cosa che sto a cavallo devo mettere l'altro da risparmio e vattene tanto privo ho chiesto a tirare fuori la spada vattene vattene oh mazza proprio a cecio che sei capitato vattene curate ma che bello che è morto guarda manco te voglio fa' voglio ammazzarla così semplice ah invece no dovevo fare con quell'altro ma recuperava la vita perchè c'avevo il talisman vabbè oh però c'ho 5.071 runette qui è ora di cominciare a vedere se posso fa' un livello eh allora e niente io sta parte l'ho fatta tutta perchè perchè qui sopra aspetta qui sopra là sopra ci sono stato là sopra o no o no no ci vado come ci vado oddio oddio ci sono stato perchè sono sceso dall'auto non mi ricordo ma sto cominciando a perdere vabbè 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 si è passata qua eh allora poi ci andiamo ah c'è un cosa un pipistolo attaccato c'è un po' 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 guarda un po' ma se io levo questi mi metto questi tipo no così tanto per capire e te ne sparo uno tu scendi? si che scendi vedi? ohhhh fiaschettina ripristinata eh buono buono la gente c'è morta male eh c'è niente eh qui mi segnava questa leggerita mi pare si chiamava che poi è uguale a quella della tavola rotonda può essere? no e dai e leggi e ripose tante volte vincere sulla lotta ohhhh 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 to the foundation of gold tarnished traverse Rea Lugani glenstone even tide and reunite the half crescent at the grand lift ohhhh but the bridge is collapsed and cannot be collapsed eh donna fa si sto castello donna fa dai ormai quindi lì in teoria c'è Raya Lucaria quello che m'ha detto questo infatti continuo però il castello si il castello del ponte è crollato progettario del guerriero nomade quindi posso creare qualcos'altro? ah posso creare questo? poveri tampone riduce il sanguinamento in corso va bene quindi allora qui ho fatto giusto? fatto 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 mi rimane tutta sta parte qua allora qui è dove abbiamo trovato il vaso quindi va bene va bene non so non so se mi conviene mi sa che torno qua e da qui mi faccio tutta sta parte qua sto laghetto qua sopra diciamo tutto sto sta parte rialzata e poi scendiamo sotto vediamo questa parte qua e poi c'è da fare tutta la parte del lago comunque eh c'è poco da fare c'è poco da fare allora torniamo qua e vediamo se possiamo fare un livello che semmai lo butto sulla temp se non ho sulla allora forse ne faccio due con le rune che ho intanto ne metto uno sulla destrezza cominciamo a aumentare pure la destrezza così perché voglio arrivare voglio arrivare a portare questa qua ah perché presumo allora ma la posso mettere un attimino lo so che non però è più veloce molto più veloce e fa sanguinamento questa questa è l'abilità però vabbè che non non posso sfruttare a me questa piace però mi serve 15 in destrezza allora fammi fare una cosa fammi fare una cosa vediamo un po' nuovo livello allora c'ho 1.900 3.600 posso sfruttare le rune allora se io così 1.000 2.000 non mi ricordo vabbè proviamo ci vediamo ci vediamo alla prossima ci vediamo alla prossima ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo